Sospiri, caso Sogget, da ieri lei risulta indagato in questa inchiesta, ha già detto e ribadito di aver pagato? No, risulto indagato a mezzo stampa, probabilmente sarà anche così. Voglio dire, non ho già detto o ribadito, ho pubblicato le ricevute, quindi non so che cosa si debba fare di più. Se ho causato un danno l'ho causato a me stesso, avendoci pagato, more interessi, mi si fa. Ha detto risulto indagato a mezzo stampa, quindi a lei non è arrivato ufficialmente nulla? No, l'ho già dichiarato, cambia poco per quanto mi riguarda, è giusto che indagassero, probabilmente troveranno qualcuno che si era fatta cancellare o che non le ha pagate. Quindi lei, come diceva anche nelle ultime ore, si sente tranquillo sotto questo punto di vista? Ma di che mi dovrei preoccupare di essere l'unico che ha pagato le multe a Pescara, voglio dire, in Abruzzo? Non credo di essere l'unico cittadino che riceve una cartella esorbitante risalente anche a 10 o 12 anni fa, come tutti i cittadini del mondo. Per pagarla ho chiesto di rateizzarla, dopodiché l'ho saldata tutta quanta perché mi sembrava che ci si stesse perdendo troppo tempo. Il problema sarebbe stato se quelle sanzioni fossero state cancellate a chi aveva delle responsabilità politiche, e non se le paghi tutte con gli interessi e con le more. Lei ha anche detto, lo diceva qualche secondo fa, che ci sarebbero anche altri? No, no, io lo leggo. Io leggo sul giornale che sarebbe una inchiesta riguardante molti nomi. Si parla di me, io rispondo per me, vedremo se ci sono altri.